Scalzano Ionico Deve essere una frazione del... Provincio del... Do cazzo è stato posto? Tu? Io? Quante anni hai? Diciamo che hai superato i 27 anni Stai facendo un spirit house? Stronze! Aiuto? E' felice! Ma che? Ma che? Ma che è niente? Niente eh! Ma che è un brio con Enrico Mattis? Salve! Benvenuti a tutti! Ma che ne abbassa queste foto no? L'ultima! L'ultima! Scusi in ritardo ma ci sapeva una cartina ma... Quella siete fumata! Ciao! Come ti chiami? Alice! Lo sai che sei molto carina? Grazie! E poi li passi con 50 euro? Ma che il mattino ci hai pagato? E' Nando Buccia! Buccia! Con la B de Buccio! Sono 2200 euro! Ma non avevi detto che il sesso non ti interessava? Eh! L'ho detto una cazzata! Quante ne dicono uomini? Ma lei è proprio brasiliano? E' brasiliero! Puro, puro carioca! Del Rio de Janeiro! Del Rio de Janeiro! Del Rio de Janeiro! Del Rio de Janeiro! Sei come un sorcio sulla groviera! Ma quella è proprietà mia! Ragazzi! Signore desidera! Devi dire dove si sta nascondendo mia figlia! Che quella è più furba di suo padre! Ma soprattutto! Voglio tra le mani quel Bebbo Confort! Bebbo? Che nome è Bebbo? Nome di Frosio? Eh? Noi eravamo rimasti! Non mi ricordo la pagina! Fammi male! Sdrumami! Tengo sombrero! Non tengo dinero! Però ciò te chiero! Mi amore! Come un albassero! Come un ruolo intero! Ciò te chiero assieme! Mi amore! Por favor! Por favor! Ciò te chiero! Mi amore! Come un ruolo intero! Come un ruolo intero! Operazione Vacanze! Al cinema! Italiana mafia mafia! Scusa scusa scusa! Oddio! Mi ricorda il culo di mia zia! Ah! Italiana culo! Ahahahahha!